ben ritrovati amici avventurieri eccoci qua di nuovo insieme io sono millo e benvenuti qui su millo cloud gaming siamo tornati su lords of the fallen aiuto 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 speriamo bene e dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti dopo abbiamo fatto quel boss maledetto quindi ora la cosa da fare credo sia aprire quella scorciatoia ma per farlo già la vedo un po complicata perché dobbiamo andare subito in umbral perché qui è tutt'acqua e quindi niente iniziamo ad esplorare vediamo che succede dobbiamo essere anche veloci perché sapete no più tempo passiamo in umbral più venivamo presi di mira allora cioè iniziamo proprio subito no questi sono mob normali ok dunque dobbiamo tirar giù queste cose queste robe qui dove si fa allora uno sta qui perfetto qui veloce 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 qui Curiamoci Nice Entra la scopra Il prima possibile è la scorciatoia Quindi suppongo di qua Ma che Ok In parte sarò mai Di là forse Ok Qui c'è un loot Prendiamocelo Via da me Via da me Ci dobbiamo muovere Un occhio Va bene Va bene Can we stop Pelino Cario Ok Via Loot 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 Perfetto Dobbiamo muovere Ci dobbiamo muovere Ok 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 No Dai Dove si apre la scorciatoia? Non cadere, non cadere Girati Picco Mamma mia Dai Curati Ma che cavolo Lo becchia questo Ma stanno ovunque Scusate Ora escono sempre di più E schiatterò male Qui c'era una scorciatoia Non l'abbiamo vista Ci siamo mi sa Ci siamo Ci siamo Ci siamo Perfetto Butta giù Butta giù Vai Che succede? Si è pagato? Tanta miseria Non posso riposare Se ci sono nemici? Ok Questa mi è nuova Ok Ho riposato perché Si respawnano Però adesso siamo Nel mondo di Adir E perché C'è la scorciatoia Ah è vero C'hanno la palletta Non si vede Questa 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 Di cura Eh niente Eh niente Di cura Ah guarda Da là Viene Ok Le devo trovare Eh ormai Però No 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 è che non c'è curato Dai Da quello Come ci vado lassù Tu guarda Eeeh vabbè niente ragazzi S'affronta Aspettate aspettate Ok Via 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 Che difficoltà Ok Allora Qui si potrebbe mettere Mettiamolo se non schiattiamo No Ok Allora Vorrei capire come Fare quelli che stanno lassù Cioè E dai Boh ragazzi Cioè Non c'è proprio gioco E' inutile Cioè E' praticamente E' una cosa Che non sta né in cielo Né in terra Allora Scusate un attimo Non c'è Non si può giocare così Ragazzi Cioè Non puoi fare niente Cioè Non si vedeva neanche arrivare il colpo Vabbè Vabbè Allora Uh Miglioriamo il personaggio Assolutamente Si Forza Riposati Ok Voglio finire di esplorare Di là Perché se no Cosa facciamo C'è una roba dietro Andiamo in umbral Perché ho capito che Sto posto è meglio Farlo in umbral Perché Perché si Guarda è assurdo Ok Allora Devo capire Come andare a fare Quello lì Sì Guardate lì Ok No Questa però la lascio Allora Andiamo a far fuori questo Che ci dà fastidio Ok Dai Maledetto Aspetta Qui potrei tornare Nel mondo Nel mondo di Adir Ma non lo faccio Allora Vediamo un po' Perché c'era una scorciatoia lì Avete visto Quella con quella scala Chissà dove Da che parte Si va Per prenderla Allora Allora Qua ci stanno tutti questi Lì si può tornare indietro E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Detto Mi curo Ok 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 E da lì veniamo Non abbiamo visto che non c'è niente Che se fosse di qua La Ok Però qui ci vedeva un Eh guarda che è lì Qui c'era Qui si vedeva un oggetto Dai Ok Questo qui prendiamolo Ah sono tornato indietro Come un pirla Eh niente Eh vabbè Pazienza Ora dobbiamo risalir sopra Era di qua Era Senza di sì 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 Raga Ora ci lasciamo le cose Prendi questo Ah no È quello che Ok C'era il Il coso qui che si abbassava per passare Va bene Va bene Va bene Che non ci serve a niente Praticamente Non è Non c'era Non c'era Non c'era Niente Vabbè Bel gioco Proprio un bel gioco Quando ho fatto così Di qua Di qua Chissà Non abbiamo preso tutto Questo è poco ma sicuro Perché Cioè Di là ci stava una scala E non l'abbiamo ancora trovata A meno che Non ci si arriva già Da più avanti Però Ma ma Cosa Mi ha reggiato Qui muoio Ok Lì vedete Pure c'è una scala No No Lì c'è una scala Vedete Come ci si va Lì però Mazza Questa è complicata Questa parte Qui c'è la scala Vedete Ma qui stiamo tornando indietro Qui stiamo andando Verso la scorciatoia Qui si apre forse Fermati 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 Fate Oh Neanche di qua si va E qui c'è la scorciatoia Ok Siamo morti Siamo morti Tela 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 Dov'è la Eh niente Eh Troppo tempo in Adir Raga Vedete Quindi c'hai due occhi C'hai in Umbra Lo volevo dire Due occhi E poi ti Ti scotennano Ti scotennano Non ti puoi né curare Né niente Che scemenza Lasciamo dire C'è veramente Già il gioco da esplorare È complicato Poi ci metti Sta roba Insulsa Per me Non ha proprio senso Comunque Vabbè De là Non ci stava niente E Però Non l'abbiamo trovato Dove andare C'è Proprio Per niente Lasciamo Stare questi Perché Si E qui c'è Acqua Raga Qui c'è Acqua Non si va In teoria Noi dovremmo andare Dall'altro lato Vedete A meno che Non ci Non ci si va Quando c'è L'acqua Vedete E qua No neanche Ragazzi No No Stai buttando Il tizio Ah ma Stanno in acqua Tranquillamente Loro Eh niente Ragazzi Niente Niente proprio C'è Perché pure volendo Vedete Là c'è una tizia C'è pure volendo Passare Non si va C'è saltare Dico Se saltiamo Manco di qua Si va Vedete Qui è chiuso Di là Era chiuso Pure Quindi Boh Non capisco Mi spia Vabbè Qua si può passare Allora E niente Non lo so Come ci si va Non lo so Magari Si torna indietro Lì Da qualche altra parte Perché C'è Qui abbiamo Veramente visto Tutto Vedete Pure di là Pure di là C'è Non è che Dici Fai un salto E ci arrivi Tutto può essere Tutto può essere C'è così semplice Guardate Perché sta là Com'è possibile Che non trovo La strada C'è lì Vedete È proprio Qui dietro Vediamo un po' Magari può essere utile Pure a voi È così È qui dietro Ma è proprio lì Vedete È lì Appunto Però lì Non ci si va C'è capito Lì non ci si va C'è l'acqua Ma non ci si sale Lì Quindi appunto Dicevo Forse si fa il giro Da un'altra parte Cioè Bisogna fare il giro Forse di qua Di qua E poi si sale Sì Vabbè Sì Vabbè Qua puzza di boss Eh Ci proviamo Vediamo che boss è Anche perché Oh mio dio Aiuto Questa è una webcam Che facessi la webcam A cerchio Ma io ce l'ho male Devo cambiare GeForce Now Ragazzi Lord of the Fallen Con una 40-80 Tutta a palla Spettacolo puro Artisticamente parlando Lord of the Fallen È spettacolare Spettacolare Oh mio dio Ma cos'è sta roba Per cavaliere Sì sì Questo è stronzo Ragazzi Come tutti D'altronde Oh mio dio Oof Hai due battaglie Abbiamo date Ma Ok Ah già Ma Ok Ok Però bisogna Andar via Quando fa così Ok Stiamo attenti Eh Dov'è 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 Dai Ma vabbiamo subito Fattemene un attimo Ok Stavolta Non ci ha fregato Ok Uh C'è una paura Quando fa quell'attacco Ok Passa quanto corre Dai Vien da me C'è Curati Curati Porca Cazzozza Ah no Non fare Lavido Di nuovo Il cavallo Dove 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 Cos'è Sta cosa Noo Dai oh Eh vabbè Eppure l'hai targettato A 360 gradi Eh madonna mia che ha tanti attacchi Fa Siamo attenti eh Vabbè Vabbè niente A mimita che sta tracendo Eh signore madonna Che cosa c'hai in mano Cioè a che distanza Mi ha colpito Ok Via Ormai Vediamo se riusciamo a farlo Ok Allora E' palloso sto boss Mamma mia scusate Sto fatto del cavallo qua Dov'è 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 Donn'è sto scudo Vabbè Scusate Non c'erano Non c'erano Non c'erano Non c'erano Non c'erano Non c'erano Io ero sotto Con lo spadone A due mani E non l'ha beccato da quella distanza Ma io boh Ok Vado è qua Pianto Nada Ok Va bene Allora che fai Ok Meno male che l'ho visto dove stava Pianto Ok Niente si deve fare Se passeggiate a cavallo è tutto inutile Pallo Ora si immerge Pianto Perfetto No Eh dai Curati Ok sei immerso Eh vabbè raga Però cioè come si fa Ok 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 Immerso curiamoci Cavallo Che fa Ora si è immerso di nuovo Ok La fai ora No 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 Noo Ce la posso fai Ce la posso fai Ce la posso fai Cavallo E' immerso Sei immerso No No Dai Guarda lì La telecamera Raga Però Sì 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 Scusate Mi stavo già La telecamera Maledica Non avevo vita Voglio lui Che fatica Allora però un attimo Dove stanno le mie Il mio vigore che avevo perso Ho già l'ho raccolto Durante la fight Non me ne sono accorto Uh raga Mamma mia Mi stava venendo proprio L'angoscia L'angoscia Aspettate Aspettate Fatemi aprire Dove stanno i cerellini qui? Ok Fatemi tornare nel mondo Ah no Però mo non posso fare lì E' vero Che cretino Eh vabbè Un attimo Facciamo prima sta roba Che devo fare? Ma interagisci Purifica Aspettate un attimo Aspettate un attimo C'ho un po' paura Che non ho Allora Traggiamo? Ma noi da dove veniamo? Allora Il vigore dov'è innanzitutto? Allora Noi da dove veniamo? Scusate eh Cerchiamo di capire Di là No Ora di là Ce ne dobbiamo andare Ecco il vigore Vedete E forse Troviamo Troviamo Quella parte Delle scale Che ci siamo persi Dietro Capito? Allora Intanto purifichiamo Sto faro Allora Mia Vediamo che succede Sono curioso Questo è il primo Il primo faro che facciamo Ne abbiamo Fatti 5 Altri 4 O no 5 in tutto No? Così va All'inizio della storia Ontrò Unма Type Chored Ciao Allora Ciao 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 E che è successo ora? Niente Tu andai in Umbral però Cioè Mi ricordo, capito? Ok Ok Bene Allora Oh Che posso? Questo è niente secondo me Niente I boss raga Bisogna prenderli tutti con estrema calma C'è un po' da fare Poi la telecamera non aiuta Non aiuta raga per niente Cioè avete visto più delle volte Io mi trovavo completamente fuori Fuori inquadratura ecco Allora noi veniamo da qui esatto Quindi indietro non si torna Eh sì dai Di qua Speriamo che troviamo allora quelle scale mancanti Però Ora vediamo di trovare una vestigia Perché se no come facciamo? Sempre romperemo Abbettini eh Io spero che ci sia una vestigia Non ricordo Prendiamola Con questi robbie? La scatizia pure gioca con loro Beh altri due occhi buoni Ci dobbiamo imparare Robbia Oddio è lei Aspetti Oh c'è la vestigia Oh raga Vai Vai Allora 24 Facciamo 25 forza E dai Così Oh Allora raga Possiamo mi sa proprio firmarci qui Ora finalmente I Intended To See If The ones Who inhabit This swamp Might be Potential Customers But They seem Quite Focused On Heads Including The removal Of Them So I thought It best To keep My distance In case They took A liking To mine Not That Many Ever Have With This Face It's An Odd Light That Burns In Your Lamp Friend Of Course The Darkest Moments The Only Light You Ever Really Need Is The Light Of Aureus Ma che c'hai da vendere te Questa No a noi ci serve Che belle armature che c'ha lei Ci servono le altre piede per potenziare la spada più 4 E non ce l'abbiamo Allora Amici avventurieri Ce l'abbiamo fatta Boss fatto Il primo boss importante Perché abbiamo fatto fuori Abbiamo anche purificato il beacon Il faro Ce n'è un altro davanti a noi Adesso ci incammineremo da quella parte Speriamo bene Però chiudo qui questo video E lo sapete come al solito Vi invito a lasciare un like Iscrivetevi al canale E Accendete la campanellina Che sta Così Voglio dire Restate Lo volevo dire Restate sempre Sintonizzati Sì vabbè Notificati Scusate Oggi Non avevo niente Penso 3000 cose al secondo E ovviamente poi mi si incarta la lingua Niente Scusate Però fatelo Anche perché il canale sta crescendo E sono veramente contento Quindi Grazie grazie di cuore Non smetterò mai di dirlo E Così Ci vediamo nei prossimi video Ciao